Sopra luogo dell'assessore regionale l'edilizia Marco Scaiola, quest'oggi accompagnato dall'amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini al sindaco della città di confine Flavio Di Muro per l'avvio dell'importante cantiere di manutenzione straordinaria degli edifici ai civici 89 e 91 di via Gallardi a Ventimiglia. Ce ne parla lo stesso assessore Scaiola. Sì, è un impegno importante per la città di Ventimiglia ma direi per il ponente. Non parliamo solo dell'intervento da 5 milioni di euro per il recupero e la riqualificazione di 59 alloggi ma come vi avrà detto l'amministratore unico di Arte Dottor Parolini ci sono un ulteriore un milione e mezzo che vengono investiti su questa città, una parte per recuperare nuovi alloggi perché non sono mai abbastanza quelli che ovviamente servono per le famiglie in difficoltà, e allo stesso tempo altri interventi per oltre 400 mila euro di riqualificazione. Quindi su Ventimiglia Regione Liguria investe attraverso Arte 6 milioni e mezzo di euro. Vi posso garantire che è una delle cifre più alte che sono state investite sul territorio Ligure ed è l'intera cifra che avevamo a disposizione, l'abbiamo investita sulla città di Ventimiglia. Perché? Perché come vedete il cantiere alle nostre spalle necessitava di un intervento, penso che avevi calzoncini corti quando ho sentito per la prima volta parlare della necessità di intervenire all'esterno di queste palazzine, i tanti negli anni passati consigli comunali ma anche consigli provinciali in cui l'argomento era stato sollevato e finalmente siamo intervenuti, siamo intervenuti anche con una certa determinazione perché come si suol dire si potevano fare piccoli interventi con piccole risorse per risolvere il problema per qualche mese. No, abbiamo voluto fare un intervento radicale perché 6 milioni e mezzo, qui 5 milioni è un intervento radicale, ripeto, una scelta precisa, rivendico, una scelta anche politica di intervenire a Ventimiglia, un percorso che abbiamo iniziato già da alcuni mesi, quindi abbiamo iniziato con la precedente amministrazione, continuiamo con l'attuale amministrazione perché, ripeto, penso che i cittadini di Ventimiglia abbiano necessità di vedere anche risposte dalle istituzioni. Ventimiglia, come sappiamo, sta affrontando anche un momento difficile per il tema migranti, quindi è giusto che ancora di più si cerchi di investire su questo territorio, migliorandolo, dando opportunità e dando anche delle riqualificazioni per le cosiddette famiglie maggiormente in difficoltà. È un tema nazionale che abbiamo portato anche come conferenza delle regioni al tavolo nazionale per chiedere ulteriori risorse, come Liguria coordiniamo proprio il tavolo nazionale sull'ERP, siamo fiduciosi di attendere ulteriori risorse, se queste non dovessero arrivare attraverso il Fondo Strategico Regionale riusciremo a impegnare nuove risorse, ma abbiamo anche la soddisfazione di essere stata la prima regione in Italia a chiudere un accordo che è stato sottoscritto dal Presidente Totti con il Presidente Meloni pochi giorni fa a Genova sull'FSC e quindi siamo la prima regione che riusciremo ad avere ulteriori fondi di cui questi, una parte importante, circa 20 milioni di euro andranno sull'edilizia residenziale pubblica, perché per noi è al centro anche l'intervento sulle cosiddette fasce deboli che ahimè si sono anche ampliate come realtà, perché sappiamo i problemi, le tematiche sociali, economiche che hanno toccato molte famiglie, quindi noi vogliamo intervenire sempre. Sappiamo che quando risolvi un problema ne hai un altro appena ti giri dall'altra parte proprio per la delicatezza del tema, però credetemi che le risorse che sono state spese in questi anni, pensate in tutta la Liguria abbiamo investito più di 150 milioni di euro sull'edilizia residenziale pubblica, era un intervento che non si vedeva da 30 anni sul territorio Ligure e mi fa piacere da imperiese che Ventimiglia sia la città dove maggiormente si è investito proprio per la delicatezza del tema. Una importante riqualificazione totale come confermatoci dal Presidente di Arte Antonio Parolini. Si ha detto bene lei, una riqualificazione totale perché è una riqualificazione strutturale, antisismica e una riqualificazione energetica, quindi interventi importanti per la sicurezza e per la qualità dell'abitare di questi assegnatari che sono quasi 60 famiglie che con questo intervento vedranno ridurre enormemente anche il consumo energetico, quindi la bolletta e quindi cambiare anche quello che è il budget mensile delle famiglie. Tempi previsti? Tempi previsti, il cantiere come vedete è pienamente operativo, siamo partiti, stiamo rispertando i tempi che prevede la legge, finiremo nel primo semestre del 2024. Cambieranno faccia anche queste torri? Assolutamente sì perché abbiamo voluto anche cercare per quanto possibile di abbellirle, perché anche l'occhio vuole la sua parte e vivere nel bello è una cosa importante, quindi abbiamo previsto un cambio dal punto di vista architettonico. Quello che ci auguriamo è che questi tantissimi soldi, perché parliamo di 5 milioni di euro, vengano poi valorizzati e soprattutto manutenuti, che non siano soldi sprecati, quindi ci auguriamo che poi con una sinergia che sappiamo ci sarà con l'amministrazione comunale, con la regione e con le forze dell'ordine, quello che abbiamo visto in questi anni non succeda più. Sono 59 alloggi, adesso non ho preso la calcolatrice, ma se li dividiamo grosso modo dovrebbe venire una cifra del genere, quindi una cifra tra gli 80 e i 90 mila euro, una cifra importante di riqualificazione su alloggi esistenti, il PNR, i fondi sulla provincia di Imperia sono 6 milioni, 5 li abbiamo dedicati qua, perché ci tenevamo a riqualificare veramente una parte della nostra provincia che ne aveva davvero bisogno, quindi questa è una vera rigenerazione urbana. Una ristrutturazione fondamentale grazie anche ai fondi PNRR, come confermatoci dal sindaco, Flavio Di Muro. Assolutamente sì e grazie all'impegno di Regione Liguria che ha deciso di investire a 20 miglia. Noi come amministrazione comunale siamo qui presenti per ringraziare di questo impegno, per dimostrare che anche noi vogliamo fare la nostra parte nelle aree intorno a questo intervento di riqualificazione urbana, un intervento importante e sostanzioso sulla struttura stessa di questi palazzi. Si vuole riqualificare realmente il cantiere, lo si vuole fare spendendo 5 milioni di euro, non si è mai vista una cifra così importante per i fratti maristi e oltre questo una volta ultimati i lavori ci sarà anche un beneficio per le famiglie che vi abitano perché i costi dell'energia, i costi delle bollette saranno ridimensionati notevolmente, quindi anche un'azione che ha un risvolto sociale. La soddisfazione del consigliere regionale, la ventimigliese Mabel Riolfo. Sì assolutamente, sono 5 milioni di euro che Arte mette su una zona di 20 miglia che necessitava veramente di una riqualificazione, una riqualificazione dal punto di vista strutturale, dal punto di vista sismico e dal punto di vista energetico. Si tratta di 59 alloggi che in oggi sono occupati veramente da soggetti bisognosi e riqualificarli totalmente comporterà un cambiamento totale di aspetto e di assetto di questa zona. Aspetterà poi anche all'amministrazione pubblica provvedere alla manutenzione e al mantenimento di quello che l'arte provvederà a realizzare. Si prevede la realizzazione entro il primo semestre del 2024, quindi questa volta un grande applauso, una grande opportunità per la città anche.